Ciao e benvenuto nel video di oggi dove parliamo di pensione anticipata e poi vedremo una chicca legato alla pensione di vecchiaia anticipata a chi spetta per capire come fare nel 2024 ad andare in pensione prima rispetto ai 67 anni. Se ancora non mi conosci io sono Daniele Stroppiana, sono un consulente pensionistico e assicurativo e aiuto le persone a compiere le giuste scelte sia dal punto di vista delle pensioni ad oggi e future in base ai contributi versati e che si andranno a versare che giuste scelte dal punto di vista assicurativo per tutelarsi durante la vita lavorativa prima di andare in pensione. Se ancora non l'hai fatto ti invito ad iscriverti a questo mio canale youtube e a seguirmi sui social, a mettere un like a questo video e a condividerlo a più persone possibili in modo da aiutarmi ad aiutare più persone possibili e soprattutto a divulgare queste informazioni sulle pensioni. Bene come ti ho detto in questo video trattiamo la pensione anticipata e la pensione di vecchiaia anticipata. Nel video scorso se l'hai visto abbiamo parlato invece di pensione di vecchiaia e nei prossimi video come promesso ti parlerò di quelli che sono gli altri istituti per andare in pensione prima dei 67 anni ovvero quota 103 e opzione donna nel 2024. Ma vediamo quest'oggi la pensione anticipata. Anche per la pensione anticipata bisogna fare quantomeno a livello teorico una distinzione tra coloro che andranno in pensione con il regime di calcolo misto e che quindi al 31 12 95 avevano già versato dei contributi e tra coloro invece che andranno con il regime di calcolo solo contributivo ovvero per coloro che al 31 12 95 non avevano versato neanche un contributo e quindi sono partiti poi con la loro carriera lavorativa dal 96 in avanti. Per questa categoria di persone almeno fino al 2026 la pensione anticipata funzionerà in questo modo. Sia per chi andrà con il regime di calcolo misto che per chi andrà con il regime di calcolo contributivo c'è un solo requisito da rispettare. Avere versato almeno se si è uomini 42 anni e 10 mesi di contributi, se si è donne 41 anni e 10 mesi di contributi. Questo è l'unico requisito contributivo da rispettare che differisce per gli uomini di un anno in più rispetto alle donne che possono aver versato un anno in meno. Invece l'età anagrafica può essere qualunque. Quindi in questo caso se una persona avrà iniziato a lavorare a 20 anni e avrà versato 42 anni e 10 mesi questa persona è un uomo potrà andare in pensione a 62 anni e 10 mesi. Se una donna ha iniziato a lavorare a 20 anni e avrà versato 41 anni e 10 mesi potrà andare in pensione a 61 anni e 10 mesi. C'è poi però una chicca come ti dicevo prima che si chiama pensione di vecchiaia anticipata. La pensione di vecchiaia anticipata non è per tutti ma è solo per coloro che hanno il regime di calcolo solo contributivo. E per poter usufruire di questa chicca, di questa possibilità bisogna rispettare tre requisiti. Il primo è anagrafico ovvero bisogna avere almeno 64 anni di età. Il secondo requisito è contributivo, bisogna aver versato almeno 20 anni di contributi. Infine il terzo requisito è economico. L'importo dell'assegno della pensione deve essere almeno tre volte superiore rispetto all'assegno sociale che è di 534,15 euro. Questo vuol dire facendo il calcolo che questa persona sia uomo sia donna deve avere 64 anni di età, deve aver lavorato almeno 20 anni di contributi e l'assegno della sua pensione deve essere di almeno 1600 euro lordi al mese, quindi tre volte rispetto all'assegno sociale. Non so se ti ricordi per esempio che questa è una novità della nuova legge di bilancio perché fino al 2023 l'importo e questo requisito economico, l'importo dell'assegno doveva essere di 2,8 volte rispetto all'assegno sociale. Invece pensione di vecchiaia anticipata. Bene ma quando fare domanda per la pensione anticipata e da quando decorre la pensione anticipata? Mentre per la pensione di vecchiaia la cosa importante è la richiesta e quindi la domanda da fare, per la pensione anticipata la cosa importante è la maturazione del requisito. Quindi se io maturo il requisito oggi a gennaio 2024, in automatico facendo domanda oggi, fra tre mesi, quindi superata la finestra dei tre mesi, decorrerà la mia pensione e potrò finalmente prendere la mia pensione. Ma anche se io maturassi il requisito oggi ma facessi domanda fra due mesi, non slitterà di tre mesi la finestra ma comunque alla fine della finestra dei tre mesi potrò ricevere lo stesso la mia pensione. Questo vuol dire che una persona che matura il requisito per la pensione anticipata magari potrebbe decidere di lavorare ancora sei mesi e di conseguenza fare poi la domanda fra sei mesi o fra sette mesi. Non dovrà aspettare ancora poi altri tre mesi ma avendo già maturato il requisito la pensione gli verrà erogata al primo mese utile successivo. Bene se vuoi avere anche tu informazioni legato al tuo caso specifico, hai delle domande, hai dei dubbi, vuoi verificare i tuoi contributi versati, vuoi capire ad oggi quanti contributi hai versato e quali sono le pensioni che ti proteggerebbero, vuoi capire quali assicurazioni possono aiutarti ad arrivare in pensione con serenità, io sono disponibile, puoi iscrivermi al mio contatto qui sotto e nel frattempo ti invito come sempre a mettere un like e a condividere questo video. Per quest'oggi dal punto di vista della pensione anticipata e di vecchiaia anticipata è tutto e io ti do appuntamento al prossimo video con i prossimi istituti. Ciao da Daniele!